ragazzi come va lo so da tempo che non ci vediamo come sono le news quali sono le news le news sono che mi si è rotto totalmente il cassettino totalmente il cassettino no quindi sono appena tornato dal meccanico che me ne metta un altro che sia della nissan della chevrolet della toyota anche perché ho scritto alla come si chiama alla tarmot e mi hanno per questo pezzo qua per questo pezzo qua questo questo miserabile no non solo non ce l'avevano quello di questa macchina ma ne avevano uno vecchio di un'altra macchina mi hanno sparato un prezzo senza limite senza senso e quindi me ne faccio mettere un altro e fa che poi sono andato sempre dal meccanico perché ho una perdita di olio a volte mi perde a volte non mi perde e poi mi devo far mettere questo filo qua dentro quel buchino che c'è lì così che hanno evoluto due dai donna veramente era una cosa mi doveva già fare quando mi aveva installato le casse ma probabilmente si è dimenticato poi ho una non so come mai ma ho già provato a sfiatare ma ogni tanto di qua mi perde non so mi perde un po di benzina e poi lì ho questa punta di perdita di olio che però non è di qua ma è dall'altra parte qui vedo che la ruggine si è praticamente bloccata mettendo quel quel liquido e per il resto mi sembra che va tutto bene dovrei lavare la macchina ma aspetto perché è venuto giù un polline senza precedenti dalle piante e quindi e quindi per il momento la lascio così per il resto per il resto mi viene da dire questo abbiamo avuto un paio di settimane fa un gruppo di motociclisti della still roses no venivano dall'austria dalla polonia per la maggior parte della polonia dall'austria della germania e anche dall'italia abbiamo avuto qui in polonia un gruppo di motociclisti italiani che venivano dall'italia da genova da torino e zone vicine no saranno state una decina di persone italiani in vacanza in moto adesso io avendo la vespa e avendo avuto anche una moto di cilindrata mi posso considerare motociclista nel bar ce l'insegna non fumare no c'è scritto ovviamente in polacco perché i nostri clienti sono tutti quanti polacchi la maggior parte sono polacchi tuttavia insieme alla scritta c'è anche il disegno ok c'è anche il disegno no dove tu vai c'è sempre il logo no il marchio con la sigaretta e poi la sbarretta rossa sopra al che c'era un italiano che stava fumando proprio vicino anche al cartello e allora vado lì e gli dico guarda che qua non si può fumare sì ma io mica posso leggere il polacco non leggo il polacco dimmi te dimmi dimmi te vedi com'è l'italia questi sono gli italiani è vero non bisogna generalizzare ma questi sono gli italiani perché gli altri che gli erano vicino non è che gli hanno detto guarda che non si può fumare no cosa succede a chi ha un polacco quando glielo dici prende a scusa e va fuori punto l'italiano invece doveva discutere aveva la discussione sì ma io mica leggo il polacco sì ma infatti c'è anche il disegno testa di no italiani in vacanza c'era il buffet con tutta roba buona tra l'altro no cibo polacco chiaro austriaci tedeschi tutti mangiavano l'italiano no no noi quella roba non la mangiamo ma stai a casa ma stai a casa per viaggiare in quelle miserabili situazioni stai a casa si erano portati il vino per due giorni poi due giorni si erano portati il vino dall'italia ma stai a casa tua non viaggiare stai a casa tua rompi dicionato cibo Grazie a tutti.